Un saluto dal Tg della mobilità, domani sciopero del trasporto pubblico di 24 ore, la protesta che a Roma interesserà sia Atac che Roma TPL scatterà alle 10, interesserà bus, tram e metropolitane, le ferrovie Roma Cività Castellana Viterbo, Termini Centocelle e Roma Lido. I trasporti saranno comunque regolari dall'inizio del servizio di urno sino alle 10 e dalle 17 alle 20. Servizio invece non garantito nelle altre fasce orarie, sia questa notte che in quella di domani, possibili riduzioni di corse sulla rete notturna. Domani notte non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8. E tutto appuntamento alla prossima edizione.